Oggi ci siamo concessi un piccolo vezzo, visto le giornate primaverili stupende che stiamo vivendo, cioè di presentare l'articolo olmo vicino ad un olmo di 27 anni che ho piantato io 27 anni fa. Allora parliamo della scarpa. Questo è un articolo estivo realizzato tutto con pelli a concia vegetale sia all'interno che all'esterno. All'esterno le pelli non hanno nessuna rifinitura, non c'è nulla che richiami stucchi sintetico eccetera. Ci sono dei piccoli difetti che sono i difetti naturali della pelle, però li dichiariamo, sappiamo che ci sono, sappiamo che sono una garanzia di salubrità e di naturalezza della pelle. All'interno ci sono sempre le nostre pelli a concia vegetale, completamente analergiche, senza coloranti né vernicianti per l'assorbimento del sudore e perché la scarpa non puzi e non dia allergie da cromo al piede, perché cromo non ce n'è da nessuna parte in questa scarpa. Questa scarpa è un sandro, lo dicevo prima, che è stato realizzato secondo il concetto della lavorazione del vero ideal, cioè la stessa lavorazione con cui abbiamo realizzato il nostro articolo calo che ha avuto un successo straordinario quest'anno. Perché? Perché questo tipo di lavorazione è una lavorazione che andrà lentamente a caratterizzare tutte le nostre scarpe, perché è una lavorazione in cui il piede sta perfettamente, è la meraviglia. Dentro il piede può allargarsi, la scarpa diventa una scarpa robusta, longeva, cioè durerà tanto e in più la bellezza di questa lavorazione è che tutti gli spigoli vivi, tutte le caratteristiche della scarpa sono copiate in modo perfetto e questo è determinato dalla lavorazione. La forma con cui è stata costruita questa scarpa, su cui è stata costruita questa scarpa è la forma uguale identica sulla quale abbiamo costruito l'articolo calo. Quindi tutte le persone che hanno comprato questo articolo e che vogliono sapere che numero calzare dell'articolo olmo sanno che è lo stesso numero che hanno comprato della calo. Quindi non cambia nulla. Perché abbiamo scelto la lavorazione vero ideal? Ve lo spiego velocemente come è fatta. La pelle interna che fa da fodera gira attorno ad un settopiede di cuoio e va a finire sotto il piede, mentre la pelle esterna gira all'esterno verso un altro sottopiede di cuoio su cui viene cucita a mano la scarpa, la pelle esterna. Questo crea una climatizzazione del piede e permette alla pelle interna di adattarsi perfettamente al piede che la sta calzando e quindi la gradevolezza, la calzabilità e il piacere di portare queste scarpe è assoluto. Questa è una suole microporosa estremamente morbida e che dà un grande comfort nella camminata. Vedete come io la sto? Non è esageratamente morbida perché il piede è nato per camminare per terra, quindi ha bisogno di un bel sostegno per camminare e di non viziarsi. Quindi abbiamo scelto un materiale che sostenga bene la camminata ma che permetta di rendere elastica anche la camminata. Vedete come io la sto comprimendo bene. È una suola realizzata completamente in Italia, molto leggera per rendere leggero la scarpa. Voglio dirvi un'ultima cosa, siccome non abbiamo altre scarpe a disposizione se non questa, questa qua è l'etichetta del campione di produzione che fa fede per la produzione dell'articolo e quindi avendo solo questa purtroppo ho questa etichettina rossa che da fastidio nel far vedere la scarpa. Quindi ho finito. Olmo come quest'albero, robusto, elegante ma soprattutto duraturo nel tempo, longevole. Ciao a tutti!